Dopo il lockdown in cui il Parco Coni a Lecce è rimasto chiuso per tanto tempo, ora si pensa alla riapertura ed un upgrade che possa permettere alla struttura di essere ancora più a disposizione dei cittadini e degli sportivi leccesi. Nel corso di questi giorni sono stati installati oltre 130 rampioni con un impianto a illuminazione di ultima generazione a LED che potrà garantire un efficientamento energetico e potrà permettere anche un innalzamento dei livelli di sicurezza. Il Parco infatti è aperto dalla mattina alle ore 7.30 fino alle 23.00. Obiettivo è quello di rendere questo spazio della città una vera e propria cittadella dello sport a servizio di tutti i leccesi. Dall'amministrazione comunale garantiscono che presto saranno attivi anche gli spogliatoi, uno per genere al quale si potrà accedere attraverso un abbonamento come in una vera e propria palestra. Ci saranno i tornelli e gli armadietti dove si potranno lasciare borse e borsone. Inoltre nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando di gara per l'affidamento del bar all'interno del parco per offrire qualche snack, proteico ed energy drink a chi pratica sport in quell'area. Serviranno invece risorse extra per la sistemazione del campo da tennis e quello da calcio già esistenti nell'ex area militare ma che da troppo e tanto tempo sono in totale stato di abbandono. Oltre al centro di via Potenza si procede perciò al recupero e allo sviluppo del parco Coni per una città che guarda sempre più al mondo dello sport.